Penso che tutto quello che abbiamo provato durante la settimana oggi è uscito tutto, abbiamo messo gli Udinese in casa loro, abbiamo sfondato un sacco di volte soprattutto la parte destra sulle fasce e poi dobbiamo essere un po' più precisi lì per fare meglio i cross e attaccare con più cattiveri la porta. Ecco proprio in studio si analizzava anche questa parte tattica sui cross e forse sull'ultimo passaggio forse pochi palloni per gli attaccanti oggi. Sì però è il gioco che vogliamo noi creare sulle fasce e dopo dobbiamo essere come ho detto prima più precisi nei cross e attaccare la porta con più cattiveria. Poi la palla penso l'abbiamo sempre avuta noi, abbiamo sempre avuto il pallino nel gioco, ci sta che concedi qualcosa ogni tanto e infatti mi penso che è un contropiede. Grazie a tutti.